Le previsioni attuali della Commissione indicano un aumento del PIL quest'anno in Italia nell'Unione Europea del 4,2%. Credo che queste stime verranno riviste a rialzo, anche in maniera significativa. La fiducia di consumatori e imprenditori sta tornando. La Banca Centrale Europea ha indicato che intende mantenere condizioni finanziarie favorevoli. E poi, con il recedere dell'incertezza, l'effetto espansivo della politica monetaria acquisirà ancora più forza. Famiglie e imprese sono più disposte a prendere prestito e investire quando il futuro è più sicuro. Tuttavia, questa ripresa che ci indicano queste stime non è sufficiente per riparare i danni causati dalla crisi sanitaria. Dobbiamo raggiungere tassi di crescita più elevati e sostenibili che non nel recente passato, quindi che non prima della pandemia. Se portiamo il tasso di crescita strutturale dell'economia, oltre quello che avevamo prima della crisi sanitaria, saremo in grado di aumentare le entrate fiscali, abbastanza da bilanciare l'aumento del debito che abbiamo emesso durante la pandemia. Potremmo inoltre creare domanda aggiuntiva per le aziende, riducendo il rischio di bancarotta e dunque il costo dei programmi di garanzia statale sui debiti d'impresa. Sono obiettivi non solo auspicabili, ma sono obiettivi raggiungibili. Per l'Italia questo è un momento favorevole. Le certezze fornite dall'Europa e dalle scelte del Governo, la capacità di superare alcune di quelle che erano considerate barriere identitarie da parte della politica, l'abbondanza di mezzi finanziari pubblici e privati, sono circostanze eccezionali per le imprese e le famiglie che investiranno capitali e risparmi in tecnologia, formazione, modernizzazione. Ma è anche il momento favorevole per coniugare efficienza con equità, crescita con sostenibilità, tecnologia con occupazione. È un momento in cui torna a prevalere, come ho detto altre volte, il gusto del futuro. Viviamolo a pieno, con determinazione e con solidarietà. Grazie. Grazie. Grazie.